oggi è il 20 novembre 2021 e dal paradiso vi saluto oggi sembra una giornata estiva di colori paradisiaci e di blu intensi con un sole meraviglioso allora che dirvi in un giorno come questo dove ancora il cielo ci grazia di tanta meraviglia solo grazie ricordiamoci di ringraziare nostro padre padre adonai ringraziamo sempre il padre ringraziamolo al mattino quando ci svegliamo e quando la nostra vita ci fa questi doni ogni qualsiasi dono ovunque noi siamo apprezziamo ciò che abbiamo facciamo una lista di cose per cui ringraziare e ci accorgeremo che sono sempre meno quelle di cui lamentarsi concentriamoci sul bello che abbiamo sul sole che splende nel cielo sugli alberi che ci danno l'ossigeno come questo meraviglioso eucalipto sul blu del cielo sul mare su questo pianeta bellissimo oppure sulla nostra città sui nostri cieli sulle nostre case insomma ovunque noi siamo ringraziamo e vi accorgerete che se iniziate dal mattino a fare la lista delle cose per cui ringraziare non avrete più niente di cui lamentarvi perché già solamente ringraziare per la vita che ci ha dato vale tutto e allora godendo ogni attimo di questa vita godendo il qui ed ora vi saluto e vi auguro una buona giornata luminosa nelle grazie di nostro padre adonai e nelle sue meravigliose bellezze grazie padre e madre grazie madre terra gaia grazie 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 e così sia e così è il mio cuore è colmo di gratitudine e oggi vi invito con me a cantare l'oponopono ti amo mi dispiace perdonami grazie ti amo mi dispiace perdonami grazie